Come le saprà, in segno di gesto distensivo dopo la campagna elettorale, Giuliano Pisapia ha chiesto a Letizia Moratti di fare il vice sindaco nella sua giunta. Lei è d'accordo? No, penso di no. Ci rovina tutto quello che cerchiamo di costruire. Quello che doveva fare, di male, l'ha già fatto. Lei vorrebbe un vice sindaco come la Moratti? No, assolutamente. Non l'ho voluta come sindaco e a maggior ragione non la voglio come vice sindaco. Vabbè che è stata una campagna elettorale all'insegna dell'ironia, ma quando è troppo è troppo. Giuliano Pisapia ha chiesto a Letizia Moratti di fare il vice sindaco nella sua giunta. Beh ma che domanda è? Ma la voglio, sai cosa la farei? A fare la bidella nelle scuole, la Moratti, la bidella, cos'è meno si rendi conto di come sono messe le scuole, ecco. Io le farei fare l'uscere di Palazzo Marino e ancora ti va bene.